Salve a tutti ed eccoci qua nel classico video del giorno dopo in relazione al match che si è giocato ieri tra Cagliari e Venezia e ha terminato il suo risultato di 1-1 Allora, considerazioni chiaramente un po' a mente fredda perché chiaramente il post partita si l'ho fatto ma indubbiamente ero abbastanza provato dal gol all'ultimo e non mi sono uscite moltissime parole però vorrei iniziare dicendo che questi sono tutti effetto probabilmente del Cagliari e della situazione che stiamo vivendo Settima giornata di campionato, questa era stata presentata come la gara della svolta lo sarebbe dovuto essere anche due giornate fa contro l'Empoli però comunque questa sarebbe dovuta essere la gara che ci avrebbe dovuto dare i primi tre punti del campionato Così non è stato Cagliari pareggia, viene riacciuffata al 93esimo grazie al gol realizzato da Busio Che dire Allora Ieri I primi 45 minuti sono stati indubbiamente molto molto buoni, molto positivi Infatti lo vedrete anche dalle mie fagelle che vi dirò dopo I voti non sono bassi Potrebbero essere voti di una squadra che comunque ha giocato più o meno bene Definitivamente è stato così, almeno per i primi 45 minuti La squadra ha tenuto molto bene il campo E' andata a pressare E' stata molto alta E non ha permesso nessun Forse l'unica occasione che ha avuto il Venezia è stata quella di Jonsen Dove ha tirato praticamente sul primo palle Il Cagliari è stato bravo a respingere appena dopo il nostro gol del vantaggio I maturato Mi appena verso la mezz'ora col gol di Keita Quindi sì, un Cagliari che andava a prendere molto alto il Venezia E che non permetteva nessun tipo di azione offensiva Soprattutto a partire dal mezzo Perché andavamo subito sui loro due centrocampisti Su Busio e l'altro giocampista che adesso mi perde sinceramente il nome Però eravamo perfetti Poi vabbè anche loro non sono stati il massimo Perché sbagliavano molti appoggi E facevano fettica ad uscire Quindi non una grande prestazione per il tempo del Venezia Il secondo tempo è stato il contrario Venezia che ci prendeva alto Venezia che ha tirato tanto E Venezia che forse avrebbe meritato anche il gol del pareggio prima Anche se c'è da dirlo L'unica cosa che Mazzarri ha detto di molto importante nel post partita Di questa partita È stato che il Venezia a livello di Tiri in porta Non ha fatto granché Cragliano è stato impegnato Con importanti parate, importanti occasioni Forse per certi versi Il Cagliari ha creato più del Venezia Nei 90 minuti Il Paolo di Marin L'occasione di Keita Quella del secondo tempo Nella quale non è riuscito a spingerla in porta Lì sarebbe stato 2-0 Probabilmente l'avremmo chiusa quella partita Però dal sessant'esimo in poi si vedeva benissimo Che quel ritmo Che hai usato nel primo tempo Ti ha ucciso Perché Cagliari non è ritornato Per niente È completamente stato un altro Cagliari È stato come vedere due partite diverse Il primo e il secondo tempo Cagliari nel primo tempo Cagliari nel secondo tempo Due squadre diverse Completamente Una squadra che Poi I primi Veramente L'ultimo quarto d'ora L'abbiamo giocato Nei nostri 30 metri Nei nostri 30 metri Ragazzi ci siamo fatti riprendere così Io veramente non ci posso credere Poi Scusatemi Ma Mazzarri Che ti sei lamentato Ed effettivamente è così Perché ti vede benissimo Che la squadra non è in condizioni Di reggere 90 minuti Con quei ritmi tra l'altro Che hai imposto tu nel primo tempo Hai 5 cambi a disposizione 5 Ma gestirli un po' meglio Perché fare i cambi all'87esimo Alla Maran No Non ha senso Ragazzi Non ha senso Poi vabbè Lasciamo a perdere Che hai 3 slot Però Ok che anche Carboni Si è fatto male Poi verso la fine Però I cambi erano assolutamente A gestire meglio Assolutamente Assolutamente Ti mettevi a 5 Ti stavi un po' più Cravato dietro E quella Cappella Nell'occasione finale Non la facevi Secondo me Pum Se la chiudevi Era ancora meglio Però chiaramente Adesso è andato Quello che è andato E Adesso c'è la sosta Tra l'altro Siamo appunto a capo Perché partiranno Godin Caceres Nandez Per Eiro Per l'Uruguay Partirà Marin Per la Romania Volunchevic Vediamo se partirà Con la Polonia Carboni E Bellanova Con l'Under 21 Caragno Non so se sarà Convocato Per la Nazionale Con l'Italia Ma vediamo Che altro c'è Poi Keita Con il Senegal Quindi Sei punto a capo Adesso Quanti giochi Trorei a disposizione Per fare Questa sosta Che tra l'altro Ti troverai di nuovo I calciatori Nazionali Soprattutto gli uruguayani Che ti tornano A poche ore Dal match Contro la Sampdoria Con una situazione Psicologica Del genere Cioè Mazzarri Ha un compito Impossibile Cioè Io non gli do Neanche la colpa Lo vedrete anche dal voto Che gli ho dato Nelle pagelle È impossibile Cioè Chi dà la colpa Mazzarri Per questa situazione È uno stupido Perché lui Non ha colpe Ha sbagliato Ieri Qualcosa l'ha sbagliato Anche lui Indubbiamente Ma dare tutta la colpa A lui È una Minchiata Così come dare Così come È stupido Dare a colpa A semplici La colpa Soprattutto Maggiore Ce l'hanno lì in alto Ce l'hanno i poteri Forti Del Cagli Non aggiungo altro Passiamo direttamente Alle pagelle Perché se no qua Si va sempre Sui soliti discorsi Passiamo alle pagelle Che è meglio Allora Dalle pagelle Potrete ben vedere Che I voti Non sono bassi C'è qualche Insufficienza Ma sono soprattutto Sufficienze Non particolarmente alte Però chiaramente Sono sufficienze Cragno Voto 6 Come ho detto prima Il Venezia A livello di tiri In porta Non ne fa tantissimi Compia una buona parata Su Ionze Nel primo tempo Dove copre bene Il suo palo E Poi è attento Sulle varie uscite Chiaramente Il gol di Busio Può veramente Veramente poco Quindi Cragno Voto 6 Sei politico Potrebbe guadagnare Anche 6 e mezzo Volendo ma Non mi andava Carboni Lui si 6 e mezzo Zero sbavature Ieri dei Carboni Indubbiamente Ieri Zero sbavature Esce soltanto Perché deve Perché ha i crampi O comunque Ha un problema Alla coscia Appena Su un contrasto O comunque Su una palla Aerea Appena cade Sente probabilmente Tirare I muscoli Ovviamente Il quadricipite O magari Qualcosa Alla vicino E Deve lasciare il campo Adaltare A cui Io chiaramente Non do un voto Anche se Che gli si può dire Anche a lui Che entra a freddo In una partita Che pesava Come un macigno Non gli si può dire nulla Ragazzi Al debuto In Serie A Così Che poteva fare Che poteva fare Godin Speciale della difesa Voto 5 e mezzo È uno di quelli Che con la condizione fisica Sta messo peggio Però è vero Che A livello di marcatura Nelle ultime partite È veramente ridicolo Osimène A Napoli Jonsen Adesso Pure quegli altri attaccanti Che poi sono subentrati Del Venezia A Henry E poi Aveva anche L'altro centrocampista Cernigoi Godinieri È stato completamente Surclassato A livello proprio fisico E anche tecnico Quindi 5 e mezzo Non posso dare di più Migliore della difesa Invece è Martin Caceres A cui ho dato Un bel 7 Ragazzi Oltre all'assist Del gol Del vantaggio È semplicemente Perfetto E poi Questa leadership Che si è preso Di motivare Comunque sempre La squadra È Molto importante In un momento del genere Servono anche Questi calciatori Che sì Magari Tecnicamente Caceres Non è un fenomeno Neanche Dal punto di vista Difensivo È un fenomeno Non sarà mai Un fenomeno Però Dimostra Di volerla Di soffrirlo Questo momento E Dimostra anche Una grande Voglia di Rivalsa Ok Quindi 7 Anche per questo Per il carisma Che ha dimostrato ieri In cambio Martin Caceres Bravo Ligo Giannis Voto 5 Basta Basta Cioè Sono tre partite Quattro partite Da quando è tornato Ci ha fatto una prova decente Adesso non mi ricordo Quella contro la Lazio Forse va giocato bene Se non sbaglio Poi non ha più giocato bene Indubbiamente Uno dei peggiori in campo Ieri Ligo Giannis Non mi è piaciuto Per niente Poi anche lui Anche lui non è che ha fatto Particolo Ma è completamente inutile Per tutta la partita È completamente inutile 5 Non entra mai Cioè non entra mai Nel clima Non entra mai Nella partita Non entra mai In qualcosa di importante E poi qualche errore tecnico Che chiaramente Implica questo voto De Iola invece voto 6 Senza infamia Senza lode Fa il suo Nel primo tempo Comunque Mi è piaciuto molto Poi nel secondo tempo Chiaramente Cala Fisicamente anche lui E Gli subentra Zappa A cui do votato Un 5 Perché chiaramente Non è azzeccata una Da quando è subentrato Zappa Marine Stesso voto di Caceres Uno dei migliori Anche lui Voto 7 Forse i due migliori in campo Sono proprio loro Caceres e Marine Marine anche lui Nel primo tempo Non entra benissimo I primi Il primo quarto d'ora Non è perfetto Anzi fa fatica Un po' A entrare nell'ana Nella gara Poi ci entra E non c'esce più Prende un palo A fine primo tempo Con quell'azione Che mi ha ricordato Molto Marco Rog E E poi è uno dei pochi Che Si vedeva Che all'ottantesimo 85 Così Stava bene Cioè Chiaramente C'era stanchezza in campo Però Lui era in condizioni Uno dei pochi Uno veramente dei pochi Strootman Il contrario di Marine In voto 5 Malissimo Malissimo Per il momento Non abbiamo ancora visto Il vero Kevin Strootman È soltanto una brutta copia Quello che abbiamo visto In questo momento In tutte le partite Indubbiamente Lo Strootman migliore Forse l'abbiamo visto All'aprile di campionato Contro lo Spezia E basta Anche perché poi Non ha giocato contro il Gemmo Mi pare Forse anche contro la Lazio Non mi ricordo Comunque Strootman Assolutamente Da recuperare Chiaramente lui Fortunatamente Resterà qua da seminello E avrà il tempo Ecco di Prendere Un po' più di Minuti nelle gambe Sia nel lamento Ma anche in In partita Speriamo Nel match prossimo Al suo posto Grassio Che chiaramente Non ha dato un voto Anche lui Doveva entrare Molto prima Strootman si vedeva Che al sessantesimo Già non ce la faceva più Ma zà Cioè Per cortesia Lo vedevo io Lo vedevamo tutti Che Strootman Già al sessantesimo Così Era Cotto Cotto Proprio per essere cotto Nandez Penso di non avergli Dato ancora No forse l'insufficienza Glielo ho dato solo Nell'ultimo contro il Napoli Perché l'ho dato a tutti Però io oggi Gli ho dato 6,5 Nonostante tutto Anche lui Stesso discorso di Marina Corre Uno dei pochi Che non Non dimostra Cioè Uno dei pochi Che la condizione fisica Comunque non Non ne risente Ecco Di questa Condizione fisica Che non sembrerebbe Essere a livello Lui Lui si sbatte Corre Poi Entra anche Nella scresione del gol Ragazzi Poco prima Della partita Poi è arrivato Anche quella Quella notizia Dove chiaramente Il suo agente Ha dichiarato E ha ribadito La La promessa di giorni Di far la partita A gennaio Io non so veramente Dove finiremo Senza me Da Nandes Dura Giù Pedro 5 e mezzo Fuori dalla partita Completamente Ma completamente Fuori dalla partita Dal primo Al novantesimo Nullo Crea qualche buono spazio Per Keita Nel primo tempo Nel secondo tempo Non c'è anche lui Credo che sia Molto provato Anche se Forse ci mette Anche un po' Del suo Perché a volte Si nasconde Non lo so Keita invece 6 e mezzo Fa 65 minuti Più o meno Gol Lo fa lui Anche una buona Cosa era per fare Il 2 a 0 Nel secondo Peccato che liscia Il pallone Tra l'altro Marocchi Giancarlo Marocchi In telecronaca Ha detto Proprio qua Si vede Nell'occasione Poi Dove Keita Ha sbagliato Il ipotetico 2 a 0 E ha lisciato Il pallone Giancarlo Marocchi Ha detto Proprio qua Si vede Tutto Il non essere Attaccante Di Keita Effettivamente È così Perché Keita Lì ha messo Il piede Sperando Ecco Di prendere La palla Però Lì ci deve andare O di testa Oppure ti butti Proprio Se ci fosse stato Pavoletti Forse sarebbe stato 2 a 0 Pavoletti Che è subentrato Gli ha giudato Un 6 E' stato Presentato Ecco Con Anche lui Con una condizione Fisica Che gli ha permesso Di giocare Circa 35 minuti Non di più Ma Si vede Che non è al meglio Ragazzi Fa qualche buona sponda Gli ha dato 6 Fa qualche buona sponda Come ho detto prima Cerca di tenere La palla La palla Ma Non so Sembra veramente Che i calciatori In questo momento Non ci siano Proprio con le gambe Cioè Alcuni Soprattutto Non ci sono Con le gambe Alcuni Con la testa Alcuni Con le gambe Altri invece Entrambi Sia con le gambe Che con i piedi Sia con le gambe Che con la testa Scusatemi Ultimo Mazzarri A cui ho dato Un 6 Perché ragazzi Come ho detto all'inizio Mazzarri Di questa situazione Ne ha soltanto Un decimo Di tutte le colpe Ed è quello Di gestire Un po' maluccio I cambi Secondo me Perché chiaramente Ha schierato in campo La formazione migliore Oggi Chiaramente Si è ritrovato All'ultimo Senza Volkiewicz Senza Cepitelli Senza Dalbert Quindi è dovuto Rattoppare un po' Cioè Seriosamente Si è ritrovato Senza difesa Anzi Io avrei Optato Cioè Avevo anche Immaginato Prende la partita Di un ipotetico Di un ipotetico 4-4-2 Di nuovo Magari con Caceres fuori E con Zappa Titolare Già da subito Per avere almeno Un ricambio in difesa A partita in corso Non è stato così Anzi Di schierare Comunque Un 3-5-2 Con soltanto Altare In panchino Mi sarei portato Magari anche Qualche primavera A questo punto Non so se Alla primavera C'è stato qualche problema Magari non volevano Dargli Non lo so Però Non mi è piaciuto Molto come l'ha gestita Sia dal punto di vista Dei cambi Ma anche Con Con la condizione fisica Di cui ti lamenti Se sai che Non puoi Tenere quel ritmo Neanche Ma neanche la metà Di quel ritmo Che hai fatto Nei primi 45 Perché lo fai? Cioè Giocatela Con calma L'hai detto tu Stiamo tranquilli Giochiamo sereni Giochiamo soprattutto Palla a terra Perché sti lanci lunghi Non li fa più nessuno Ragazzi Non li fa più nessuno Questi lanci lunghi A cercare Di scavolcare Il centrocampo Proprio il nostro reparto Più forte Il centrocampo Non lo dobbiamo saltare Non dobbiamo saltare Proprio Nella nostra zona di campo Dobbiamo avere Giochatori più Qualitativi Perché Mario e Strootman Non sono due scappate di casa Nandez Non è uno scappato di casa De Iola Possiamo anche Non passargli il pallone Però comunque Anche lui Non è che Ieri ha giocato malaccio Basta Sti passaggi così Buttati Basta Sti lanci Longhi Inutili Dobbiamo giocare Con la testa Perché adesso La situazione È veramente complicata Siamo a tre punti In sette gare Cioè Abbiamo fatto Tre pareggi E quattro sconfitte Che volendo Possono essere anche Cioè Tre punti In sette gare Sono Come se avessimo fatto Una vittoria E sei sconfitte Cioè Imbarazzante Imbarazzante Quindi Adesso c'è la sosta Con tutto Che Mancherà Mezza squadra Bazzarri adesso Ha tempo di lavorare Di mettere Mano a tutto Dal punto di vista Tecnico Tattico Mentale Fisico Soprattutto fisico Non so se la squadra Andrà in ritiro Me lo auguro Perché Dobbiamo fare un ritiro Adesso Un ritiro Non punitivo Ma un ritiro Che permetta Alla squadra Di Rimettersi In pari Con le altre Perché si vede Verissimo Che tutte le altre squadre Ne hanno più di noi Soprattutto dal punto di vista Fisico Non fa vederle Perché siamo ad ottobre Ragazzi Siamo ad ottobre E non siamo in condizioni Di giocare 90 minuti È imbarazzante Questa cosa Quindi adesso Calma Facciamo partire i nazionali Se proprio devono partire Se non Se non vogliono partire Che restino qua Perché se c'è la possibilità Di farli rimanere Io li farei rimanere Perché tanto Scusatemi Non ci sono quelle squadre Che vietano Anche i calciatori Di andare in nazionale Vietiamoglielo Se possiamo Perché devono Continuare a lavorare Qui Perché il club È più importante adesso Che la nazionale Forse per loro no Ma per noi sì E lo devono fare Per noi Tifosi Che ieri abbiamo visto L'ennesima figura di merda Forza Castello sempre E ciao ciao